Sostenere la transizione digitale delle imprese femminili e giovanili per migliorarne la produttività e la competitività, creare nuovi posti di lavoro, generare sul territorio salernitano investimenti economici per oltre 2 milioni di euro. È l'obiettivo del bando presentato alla Camera di Commercio di Salerno che stanzia più di 761 mila euro ripartiti in due misure per progetti condivisi da più imprese da 3 a 20 oppure presentati da singole imprese del comparto turistico ed altri settori come ad esempio il food. Le spese ammissibili a fondo perduto fino al 50% della spesa da sostenere possono riguardare sia servizi di consulenza progettuale applicativa sia l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali. A spiegare le caratteristiche del bando sono state le due componenti dell'aggiunta camerale Susi Gambardella e Anna Rita Colasante. Uno degli aspetti che lei ha sottolineato nel corso della conferenza stampa che questo bando rispetto ad altri emanati in precedenza è più facile da gestire e meno burocrazia. Sì è necessario che anche nell'emanazione dei bandi ci sia meno burocrazia ma sia semplice nella lettura e semplice nella presentazione proprio perché bisogna valorizzare l'aspetto che a molte imprese è possibile accedere tra cui anche le micro e le piccole imprese e bisogna soprattutto valorizzare e premiare i progetti nel suo contenuto e nella sua tipologia di investimento in modo tale che si premia l'eccellenza nelle attività digitali e in base anche al contributo che la propria impresa vuole introdurre all'interno di questo investimento segno che crede prima essa dell'evoluzione che il sistema produttivo oggigiorno ci presente quindi essere più digitali, più smart e meno burocratici. Possono partecipare le aziende in forma aggregata da 3 a 20 aziende con un contributo che viene concesso dalla Camera di Commercio di Salerno alla singola aggregazione per massimo 50 mila euro su un investimento minimo di 100 mila euro e massimo di 250 mila euro. Invece le aziende che vogliono presentarsi in forma singola avranno un contributo massimo di 10 mila euro su un investimento ammissibile minimo di 20 mila e massimo di 50 mila euro.